A Giulianova il maltempo dei giorni scorsi e le mareggiate hanno nuovamente trasportato e scaricato su tutto il litorale tronchi, legname di ogni genere e anche plastica. Condizione su cui il comune ha avviato le operazioni di pulizia dello spiaggiato che si trova sull'arenile, questo con l'ausilio di ruspe che stanno provvedendo alle operazioni di prelievo dei detriti sul litorale, che in questi giorni i balneatori hanno prima differenziato e poi disposto in cumuli. Lavori che, come confermato dal primo cittadino Ivan Costantini, verranno terminati prima del ponte del 2 giugno. Assolutamente sì, ringraziamo tutti gli operatori che si sono messi subito a servizio del comune e dei tantissimi balneari che naturalmente vogliono ripartire, vogliono far sì che la stagione estiva non perda neanche un giorno. Anche noi abbiamo avuto con lo spiaggiato le nostre problematiche ma siamo in una condizione tale che grazie alla grande organizzazione che ha messo sull'ufficio in questi anni si possa in brevissimo tempo sopprire a queste problematiche. Ma si tratta di materiale scaricato non soltanto dalle recenti mareggiate che hanno aggravato la situazione ma di rifiuti, prevalentemente legno organico, che si sono riversati nel corso dei mesi sul bagno asciuga, in particolare nelle zone a ridosso dei fiumi. Come sempre il problema è quello più rilevante, quello sulle foci dei nostri due fiumi che però devo dire nonostante il carico avuto in questi giorni sono riusciti a sopportare le problematiche che magari in altri territori hanno manifestato con allagamenti rilevanti, noi qui su Giulianova problematiche non abbiamo avuto. Inoltre alcuni gestori di stabilimenti balneari hanno sollecitato interventi per la riapertura dei canali, completamente occlusi a causa delle continue piogge dei giorni scorsi, ma ricordato che oramai lo spiaggiato è diventato un problema annoso e su cui operatori balneari chiedono da tempo un intervento per prevenire questa situazione. Lei essendo anche il vicepresidente della provincia bisogna trovare una soluzione con tutti i comuni? Assolutamente sì, lì bisogna portare avanti il contratto di fiume che possa portare ad una soluzione che duri nel corso degli anni e che non veda solo esclusivamente i comuni della costa interessati da una serie di problematiche legate a detriti che arrivano magari da altre comunità e dallo sversamento dei fiumi in mare. Vediamo un attimo, stiamo cercando con il presidente di lavorare e di capire qual è la soluzione migliore. Grazie. Grazie. Grazie.